Quali sono le maggiori difficoltà che un coro incontra? Le difficoltà maggiori riguardano un po' la tecnica vocale. Qualsiasi maestro di coro, anche di un coro amatoriale, per cercare di far cantare bene il coro deve conoscere la tecnica vocale. Io che sono stato allievo all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia del maestro Norbert Balas, lui diceva che per fare il maestro di coro per il 90% bisogna conoscere la tecnica vocale. Anche lui è stato un cantante a Vienna per 12 anni e ha fatto anche solista. E io lo stesso, io stavo nel coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per tantissimi anni. Prima sono stato nel coro della RAI, da bambino sono stato in Cappella Sistina. E quindi mi hanno sempre insegnato la tecnica vocale per poter mantenere una buona intonazione e un ottimo fraseggio. E questo ho cercato dal 2007, che sono il loro maestro. Ho cercato di portare avanti appunto questa tecnica che secondo me è fondamentale. Adesso i risultati si cominciano a vedere a distanza di molti anni. Insomma, chiaramente non è facile, diciamo, per i non addetti ai lavori cercare di cantare benissimo. Insomma, hanno fatto un percorso notevole. La prima cosa che mi viene in mente, proprio per il coro in sé, è lavorare sull'unità delle voci. Cioè che da un canto a quattro voci, a più voci, nesca una voce sola. Perché questo è sinonimo anche di bellezza. Rispetto al popolo c'è una reale difficoltà a coinvolgere nel canto il popolo. Quindi secondo me è importante rivolgersi al popolo anche proprio con la direzione. Che ci sia una persona che diriga il popolo per coinvolgerlo. Fare delle prove insieme a loro. E ovviamente riservare dei canti che siano adatti al popolo. Quindi io immagino in una messa ci sia sicuramente un canto a quattro voci. Bello, di ascolto, di meditazione. Ma anche molti canti che coinvolgano e che siano cantabili dalle persone. Quindi lavorare sull'unità delle voci del coro è una rifinitura. Perché possa uscire comunque un canto bello. Ma nello stesso tempo che coinvolgere anche sicuramente la gente che tendenzialmente non ama cantare. Non è più abituata a cantare. Di sicuro le difficoltà sono quelle di cercare di non creare una distanza tra chi sta dalla parte dei coristi, quindi chi canta, e invece tutta l'assemblea. Noi nel nostro percorso abbiamo iniziato in cui questa divisione era molto forte perché l'assemblea non era abituata. e poi pian piano, coinvolgendoli anche, diciamo, per esempio, dandogli libretti dei canti e indicando i numeri dei canti, pian piano l'assemblea abbiamo visto che sempre di più ha cominciato a partecipare, a cantare insieme a noi. Anche per esempio al momento finale, in cui di solito poi c'è la diaspora, chiunque inizia ad andare via, poi invece abbiamo visto che ogni persona rimane fino alla fine del canto e anche un po' oltre, evidentemente perché si è sentita in qualche modo coinvolta. Però, diciamo, è difficile a volte entrare così nella spiritualità delle persone. Un'altra difficoltà è anche, diciamo, tra di noi cercare di non cantare come singole persone, ma cercare di essere tutti un'unica persona, quindi far uscire una sola voce e non tante voci insieme che appunto cantano insieme. Però, diciamo, ci si lavora su questo e, diciamo, è parte delle nostre attività. Beh, diciamo, nel nostro caso ne abbiamo avute tante. Noi quest'anno, con il nostro coro, diciamo, facciamo vent'anni di attività. In questi vent'anni ne abbiamo incontrate tante, specialmente all'inizio eravamo viste come esibizioniste, perché noi siamo un coro prettamente femminile. Diciamo che c'è stata una moria di uomini che volevano cantare, ci hanno provato, ma poi nessuno si è avvicinato al nostro coro. E all'inizio ci vedevano un po' come quelle che volevano mettersi in mostra, come quelle che volevano sconvolgere gli equilibri della parrocchia, perché nella nostra parrocchia si sono stabilite da molti anni delle comunità neocatecumenali e loro, diciamo, animano con le loro liturgie, con i loro canti, in momenti diversi rispetto a quelle che sono le celebrazioni canoniche delle messe, degli orari delle messe comuni, insomma. Per cui ci vedevano un po' come animali strani. E la messa, diciamo, delle undici e mezza della domenica era quella animata con la chitarra, dagli scout, punto e basta. Non c'era il coro che si impegnava a studiare i canti con un certo impegno. Eravamo viste come quelle che facevano esibizionismo. Io e alcune delle mie sorelle, noi ci chiamiamo così, veniamo da un'esperienza di coro polifonico già precedente, quindi volevamo mettere a servizio del coro parrocchiale quello che noi avevamo imparato. Nessuna di noi conosce la musica, però con l'impegno, con la dedizione e con la costanza abbiamo raggiunto un legame, una coralità nel vero senso della parola che ci ha portato finalmente a farci riconoscere quello che noi veramente facciamo. Cioè noi animiamo la liturgia con lo spirito di cristiani, di quelli che vogliono che la liturgia sia più importante con il canto, più sentita. Ma senz'altro il fatto di diventare quello che il coro rappresenta e alla quale è chiamata tutta l'assemblea cristiana, cioè essere una voce sola. Questa è una difficoltà sia tecnica ma soprattutto di cuore. L'intenzione è quella di portare tutti insieme il cuore a Dio e la Chiesa questo rappresenta, questo è un corpo solo. Perciò il fatto di poterlo esprimere attraverso il canto è sicuramente una cosa importante anche a cui ci si deve arrivare. Sicuramente gestire un gruppo, noi siamo un gruppo grande, anche composito, quindi è complicato anche conciliare le esigenze di tutti perché siamo di età diverse, con le famiglie, quindi anche a livello pratico non è sempre facile. Con l'assemblea, diciamo, anche lì bisogna un po' mediare con l'innovazione, quindi con canti nuovi ma anche con canti che l'assemblea può seguire. Quindi noi cerchiamo ad esempio di mantenere per un certo periodo alcuni canti nuovi in modo che l'assemblea li possa anche memorizzare, magari anche soltanto per il ritornello oppure perché non ha tutto il canto. In questo insomma c'è un continuo dialogo anche con i sacerdoti all'interno della parrocchia per organizzare al meglio la liturgia, i momenti della liturgia e la scelta dei canti. Quindi la operiamo al nostro interno e poi ci confrontiamo sempre anche con i sacerdoti. Grazie a tutti.